Siamo qui per dire buon compleanno, per cercare di potenziare questa industria che ha un alto tasso di occupazione e quindi è un bene per il Paese e per i lavoratori e poi per mettere l'accento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sul rispetto dell'ambiente che tutte le industrie devono avere, bisogna coniugare e rendere compatibili le parole industria, lavoro, benessere, salute e anche ambiente. Grazie